La Barcolana di Trieste si è conclusa con una grande soddisfazione da parte della regione. L'obiettivo era quello di trasformare i 2000 metri quadri di villaggio Abruzzo in una grandissima vetrina commerciale, visto che la storica regata attira 250.000 visitatori ogni anno, visitatori che hanno affollato gli stand degli artigiani e produttori di casa nostra. Una presenza importantissima della regione, molto interessante, che ha avuto grandi riscontri sia per i residenti nell'Italia, sia per quelli europei e extra europei. Siamo stati protagonisti, abbiamo fatto 4-5 giorni di grande qualità, con espositori di altissimo livello. Il riscontro è stato molto positivo, ci aspettiamo un ritorno importante da questa iniziativa. Una manifestazione che ruota intorno ai contatti commerciali con la regione Friuli-Venezia-Giulia, con la vicina Slovenia, la Croazia e tutti i buyers giunti da ogni regione d'Italia. Se da un lato ad accorrere ci sono i più importanti velisti, dall'altra la Barcolana si trasforma in un vero e proprio business al quale partecipano importanti aziende di ogni parte del mondo. È importante far vedere le qualità di questa regione, molti l'hanno apprezzato, sia l'enogastronomia, le attività artigianali, i prodotti del nostro artigianato tipico, i nostri territori, l'appetibilità turistica, per cui è un dato importantissimo quello che è stato rilevato da questa iniziativa. Secondo me vanno fatti dei programmi, interventi dove noi siamo protagonisti e non marginali, per cui facendo così probabilmente attrarremo un numero sempre più considerevole di visitatori verso la nostra regione.